Sono stati cinque anni difficili, cinque anni particolarmente difficili, non dimentichiamo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo questo uragano che si chiama Covid-19 che non è ancora finito purtroppo, per cui unire due enti indipendenti, un unico ente al di là della volontà politica poi il grosso lavoro è stato quello di unire i nostri collaboratori nelle varie funzioni e ognuno abituato a lavorare in una certa maniera, il tutto per dare sempre maggior servizio all'impresa, perché noi siamo, il punto di riferimento nostro sono le imprese. È stato un periodo difficile, un periodo difficile iniziato già in salita perché voglio ricordare che tutti volevano un ente unico, camerale regionale, non tenendo conto della nostra territorialità, di Trieste di Vorizia, delle specificità economiche, culturali, delle aree di confine, di tutta una storia che questi due territori hanno subito e hanno vissuto e vivono, il rispetto alle altre due territori che è la provincia di Udine e di Pordenone che hanno storie importanti, storie bellissime ma completamente diverse dalle nostre. Allora è stato capito, oggi dopo cinque anni posso dirlo con certezza che la Venezia Giulia ormai lo dicono tutti e sulla bocca di tutti è una realtà seria, una realtà che fa sviluppo economico per il nostro territorio e di questo devo ringraziare sicuramente tutti i componenti della giunta uscente, il nostro segretario generale e tutto lo staff di presidenza e i collaboratori delle due, ex due camere di commercio. La delicatezza e la difficoltà di gestire questa fusione fatta nel 2016 e poi in questi cinque anni portata avanti è stata la capacità di unire due territori diversi con componenti di consiglio, Goriziani e Triestini, da amalgamarli assieme e devo dire la verità oggi abbiamo avuto un primo assaggio e lo avremo tutt'ora in pratica, da riconoscimento che mi è stato fatto di essere stato capace di unire non solo i due territori ma anche le mentalità e le abitudini delle persone che fanno parte del consiglio camerale della Venezia Giulia.